ciao ragazzi nuovo video al volo super velocissimo vlog poi domani con dei video outfit vi farò vedere meglio i capelli e si sono in bagno quindi non fateci caso alla location però volevo farvi vedere che ho fatto veramente questi qua non sono extension ho fatto i capelli grigi ho fatto il tonalizzante quindi non preoccupatevi è soltanto un tonalizzante non è una tinta e è tardissimo spero di essere stata ripresa è tardissimo infatti non guardate il mio stato perché sono in giro da stamattina ma volevo farvi troppo vedere i capelli quindi ho deciso di fare questo video e adesso sono praticamente sembrano anche più corti perché sono scusate per la location sono come si dice sono stati cotonati perché ho cambiato parrucchiera non so se noterà che la piega è diversa ma sono andata nella mia parrucchiera che ha un negozio vicino a dove lavoro in un paese di vicino e mi ha fatto questi capelli fantastici sono costati un po' di più rispetto a dove vado di solito però il risultato mi piace veramente tantissimo spero che piaccia anche a voi e praticamente è un tonalizzante grigio quindi durerà dei lavaggi insomma mi piace veramente un sacco e mi sento un po' strana perché ovviamente sono abituata a verli quasi bianchi comunque voglio farvi vedere anche il dietro perché dietro me li ha fatti tipo mi li ha fatti tipo che si che sono un po' simmetrici comunque oddio vi farò vedere meglio domani mattino domani quando farò il video era solo per darvi un piccolo assaggino e spero che vi piaccia questo video ci vediamo nel prossimo ragazze che sarà domani perché ho un null da farvi vedere però volevo troppo sapere cosa pensavate dei capelli cioè sono particolarissimi e non lo so mi sembra di portarli cioè sono contenta di averli fatti perché mi sento bene con questi capelli seppur strani cioè poi a parte che appunto dicevo me li ha cotonati per farmi un po' più gonfiare